Amici di Unibet ben trovati con Samp Napoli. Secondo me nella gara di Marassi gli uomini di Maurizio Sarri dovranno assolutamente tirar fuori l'orgoglio quindi credo che possano arrivare tanti gol quindi credo che possa essere una bella gara e che l'esito finale poi sia a favore degli azzurri quindi gol più 2 quota 2 e 63. C'è un'altra quota che ha tirato la mia attenzione ovvero 17 come il numero di Mare Kamsik beh dovrebbe vincere la Samp alla fine del primo tempo e vincere il Napoli alla fine del secondo tempo in questo caso la quota è di 17. Mi sembra una quota interessante noi ci ritroviamo presto e buona partita a tutti.